Prima le altre generazioni avevano JFK, noi Robert Kennedy, sentilo intervistato Elisa Marioni. Se avessimo trattato la pandemia come un problema medico, non avremmo ucciso 5 milioni di persone. La scienza ha sperimentato trattamenti con farmaci già esistenti che sappiamo essere efficaci. Avremmo evitato l'80% dei morti. Io credo che in questi due anni c'è stato un colpo di Stato globale contro la democrazia. Non penso che il Green Pass sia uno strumento sanitario, è uno strumento politico per imporre il controllo.